Un intervento di Girgentiacco non ancora ultimato a distanza di quasi tre mesi. Ci sarebbe questo dietro la situazione di degrado che indigne i cittadini di Via Andretta alla segnazza. Sistemata la perdita idrica, non si è poi proceduto ad asfaltare l'area della buca rimasta transennata, con il conseguente ristringimento della carreggiata che ha portato gli operai della nettezza urbana a spostare i cassonetti. Il risultato è che alcuni cittadini non si sono potuti o voluti adeguare continuando a lasciare la spazzatura dove prima erano collocati i cassonetti. Questa è la testimonianza di un residente. Tre mesi fa è successo un guasto idrico. Naturalmente sono venuti i signori Girgentiacque e hanno fatto la riparazione. Hanno transennato e a tre mesi che ancora non si degna di venire a mettere un metro di asfalto. Hanno lasciato la transennata e così è rimasta. Ragioni in cui siamo andati al municipio, nessuno si è interessato perché gli abbracci e baci dovrebbero essere prima e dopo. Gli cami prendono la calunnia che non possono passare per ragione della transennata. Ragioni in cui hanno preso il contenitore della via Andretta e l'hanno portato a un chilometro di strada. Naturalmente qua siamo un quartiere che siamo tutti ammalati. Non potevamo fare un chilometro di strada per andare a buttare la spazzatura perché i nostri diritti le paghiamo, i nostri doveri le facciamo, però non hanno a dare i nostri diritti. Quando arrivano i bulletti dell'acqua e della spazzatura non li dovrebbero pagare nessuno perché non c'è organizzazione in questa terra. Indignati i cittadini di via Andretta per i quali basterebbe poco per restituire decoro alla zona, basterebbe asfaltare la buca sistemata e ricollocare i cassonetti laddove erano. Per farlo aspettano da tre mesi.